Bentornati amici, bentornati sempre qui su Battlefront, avevo appena finito questa simple missione intanto che carichiamo vi dico un po' come la penso, allora no, come la penso no, è troppo presto però ragazzi stiamo provando un po' quelle che sono le missioni e l'addestramento per raggiungere un minimo di come si chiama, di proagine tale per cui faremo una live tra poco, quando voi vedete questo video l'avremo già fatta quindi se non ce l'avete presente andatela subito a vedere, mi raccomando a me non resta che ricordarvi che siccome questo sono i primissimi video, insomma per dare anche un po' di varietà al canale nonostante non abbia una storia principale, ogni forma di tra virgolette amore che ci potete dare tipo like, condivisioni, iscrizioni, sicuramente è più che ben accetta tra virgolette adesso dobbiamo, ecco un'altra cosa da pilotare che bello andiamo in pattuglia, sarà un legno fotonico mamma mia merda uno lo prendo forse, ma forse ucciso da te stesso ma ragazzi avevo, avevo, cioè può non sembrare ma gli avevo detto di girare, maledetti maledetti sti ribelli che ti inducono in errore ok ok, no no, non sia mai ma dai, ma anche gli alleati mi distruggono mamma mia questo è proprio un, ecco come vedete io sono bravissimo nella guida dei mezzi è un lato positivo che mi, mi contraddistingue ora vediamo di prendere poi tra l'altro, cioè avessi un mouse maledetto cazzo, oltretutto si comandano a merda sti robe ecco, grazie a Dio, grazie a Dio nel multiplayer non ci sono ste robe o meglio per quanto ne so io è occhio dai, dai, dai merda, merda dai, 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 questo lo prendo, eh questo, ahhh come fa a saltare no, no, no come fa un quadrupede imperiale passare per dai, oh, perfetto dai, che ne mancano due, porcaccia la misera e ho ancora due vite, quindi in teoria posso anche fallire ecco, tipo, tipo adesso, no quanti, quanti cuoricini ho uuuuh minchia, questa è last chance ce la faremo? i ribelli ci stanno sfuggendo da fastidio anche me, guarda questi vabbè, ma scusa vai, vai, gira, gira per Dio ma come si fa a frenare su sto ro- ahhh ecco, lo sapevo io proprio quel bipede maledetto cioè, cazzo eh, vabbè, ragazzi ho fallito ma come sapete come iniziamo con fallimento concludiamo anche con una buona partita quindi abbiamo capito che, insomma, le missioni vi danno un po' a intendere come si fanno a utilizzare determinate cose però vediamo le battaglie o la sopravvivenza facciamo la sopravvivenza su Endor beh, direi normale in solitaria vediamo un po' che cosa succede ecco, l'ammiraglio akber akber ha ordinato una serie di incursioni sulla luna boscosa di Endor e chi non sa perché è pregato di suicidarsi l'esplosione delle cariche segna il successo della missione il tremendo boato mette in allarme le forze imperiali che hanno iniziato subito a mobilitarsi per intercettarti resisti alle truppe e ci palippa inizia quindi noi siamo i buoni i buoni e siamo da soli, naturalmente vabbè, chissene voi direte perché è assaltato? sabotaggio riuscito it's a trap che bello che la forza sia con voi dai che la forza sia con me ma chissà da dove cazzo arrivano io mi metto qua qua proprio sull'orlo che se indettereggio anche solo per sbaglio ok anzi vado nel troncone come Gardaland vai ecco ma loro non hanno visto dove sono questi maledetti io lo so che stanno arrivando oddio da dietro via libera un pardebai attenzione che cos'è sta roba? mi dà la carica e l'energia? uuuu e ho capito che il nemico è in eh ti pareva gazz no che palle allora piano piano eh stiamo all'occhio riparatemi aio aio cazzo ma come funziona sta roba? ma porcaccia la miseria non funziona ok perfetto una bella lezione per gli imperiali eh top ma dove cazzo devo andare adesso? vai dov'è dov'è il guscio? io voglio il guscio prendetelo non c'è un attimo da perdere si 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 vado vado vadi vadi eh ti pareva sono già tutti al guscio maledizione ma questo è unfair si così giusto per complicare la mia già difficile situazione merda ce l'ho eh sempre più blu merda sono già lì le sonde eh ma dov'è sto guscio? oh ma dove cacchio me ne aveva andato? ecco 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 bombazza però non tutto il mare vengono per nuocere dai dove sono gli altri nemici? non vedo più nessuno ok non lo vedevo perché ero cieco oh guscio guscio stiamo prendendo il guscio di salvataggio ma che è che mi spara a do ma come osi? stormtrooper monello ok ragazzi io sono confident a parte per quella di dai allora lo prende se no sto guscio ragazzi dai quanto ci mette? cioè a mani inutile l'avrei già aperto almeno un centinaio di volte su ci giro in tondo magari crea un campo gravitazionale niente eh va bene oh e quindi bomba di prossimità hai capito e questo? top ma che me ne faccio della bomba di prossimità? ah ok proprio dove la mettiamo? la mettiamo a queste a questo incrocio vai vediamo c'è ragazzi ma 15 la lasciamo lì eh sì dai beh dai facciamolo ma basta non c'è più nessuno ah no ma perché devo andare proprio a vedere questo sondino vabbè dai andiamo sul sondino ecco no no non mi fa esplodere la bomba la granata beh non abbiamo ancora vinto gli scalperi indicano un altro contingente nemico in arrivo sì però non è che può essere così eh non è che potete grattarvi le pippe mandatemi almeno yumpa loompa cacchio eccoli dove scappa fermo aiutami ma nessuno mi aiuta rileviamo gli amici in zona maledetti mamma mia questo questo è veramente tosto tra l'altro non so se avete visto ma c'è un caricamento stile allora vediamo se effettivamente dai dai a posto così io sto sugli alberi me ne frego eccolo cazzo sono già saliti minchia che velocità ci ho messo di più io a salire tutte le direzioni tra l'altro oh ma che là c'è là c'è un cuoricione però non sono sicuro di volerlo eh no questo non non funziona l'ho preso sì dai che lo prendo e vai ok e quindi è sparito anche il cadavere sparisce ma è la forza è diventato cosa tra e daglie dove sono ok quindi verrà su anche da lì questo maledetto monello io io c'ho paura io c'ho paura ragazzi voglio stare sull'albero non voglio più scendere è già salito qualcuno sento qualcuno che mi spara in questa direzione ma ma la granata serve qualcosa non lo so mamma mia ok anche questo è stato fatto fuori anche tu va bene ma tra l'altro ragazzi voi vorreste essere l'impero o vorreste essere i ribelli non datemi una risposta scontata però ok mamma mia top ragazzi me ne mancano ancora dieci però no il guscio te lo tieni tu guarda perché io preferisco stare sull'albero ma ma cosa vuoi che me ne freghi io sto bene sull'albero guarda c'ho un tamburo anche ma sti maledetti un palun come oh mio dio questo potrebbe essere un problema vabbè ragazzi ma un attimo dio mio ma avete già mandato tutto il mondo ok maledetti un palunpa che non mi aiutano oddio oddio stiamo un po' dietro ah eccolo lì quel monello oh ma cosa cavolo gli sparo il laser per togliere oh mio dio ok 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 piano piano con giudizio maledetto cecchino oddio 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 dai che me ne manca uno dai dai che manca poco ragazzi manca poco oddio ma che ci sono altri ah monello monellone dove è andato dove è finito suca bene allora qui abbiamo distrutto la TET il problema è chi cazzo mi spara addosso ah pure i droni vengono sull'albero eh questo non l'avevo considerato e vai avanti così avete attirato l'attenzione dell'impero ah mentre adesso era una passeggiata ho capito top ragazzi finalmente un cuoricione chi è uscito da questa porta dai fatemi entrare fatemi entrare eh ti pareva pure adesso volano anche l'unico che non vola sono io mi tengo pronto sì bene ma è possibile che io non veda nulla ok 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 fermo fermo quello c'è anche la bolla hai rotto le palle con la bolla oddio oddio ok beh vola via amico mio quindi adesso cos'ha tu mi manderanno un quadrupede imperiale immagino Pure? Ma da dove? Ma a quelli volanti? Minchia, se ci fossero io Però non vale, però Oh, ma Ah, proprio così, eh No Accidenti a te Via, vola via Mamma mia, dammi tre, guau Merda, qui conviene scappare Entriamo con Yumpa Loompa Qui non va bene Ah Io nel dubbio sparo le mezzo, eh Oh, ma pianta di... Ma guarda te Aio, aio Ah Caccia, miseria Che fatica, voi non potete neanche immaginare Dov'è? Ok Testa, testa, testa Testa, testa, testa Oh, bene, perfetto Dici? Ma perché sono neanche a metà, cazzo? Poco più di metà Dovrebbe atterrare vicino a voi Eh, speriamo che ci sia il guscio, vai Vicino a me dove? È atterrato un altro guscio No, ma guarda, non me ne frega niente Cioè, io sto bene sull'albero Ma proprio... Cosa mi arriva stavolta? Dai, spara Arriva una TST Che bello! Un altro A TST Ok, rivela... Va bene Merda, dai, dai Libero Che ci vogliono tre Pappeto Oddio Chi è che mi spara Con copiosità? Va bene È calimento però questo Oh Dov'è la TST? Ok, perfetto Maledetti Ok Ma che roba è? Mamma mia che palle Dai, muori Muori Diretto nelle palle Ok Ok Chi è che mi continua a sparare Sti maledetti cecchini? Senza pietà proprio Ok, davanti Dai, alzati in volo Dai Perfetto Ok, due balle però eh Cioè basta ragazzi Sono arrivato a nuove di 15 Vabbè che l'albero funziona Però Vediamo se posso andare in un'altra location dell'albero Va bene Maledetto un palumpa No, 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 no Pure Cazzo adesso vanno di granata pesante Qui? Com'è? Bene Maledetti un palumpa Lo so come si chiamano eh ragazze Adesso Merda Pure trasparente sto Ok Cerchiamo di fare mente locale dov'è E spariamoli tutto quello che abbiamo Maledetto persona visibile Invisibile No Non era lì Cazzo Sono pure tosti da eliminare Merda Merda No No Dove vai? Dove vai? Oh Quanto ci mette per morire? Fermi Allora abbiamo preso Aspetta Vediamo se c'è qualcuno C'è un altro lì qua Per forza Ma che cazzo mi spara addosso? Ah Maledetto mi sei sfuggito La pagherai per questo eh Un giorno Oh Perfetto Dici? Dai ragazzi manca poco No ragazzi sta diventando veramente troppo lungo Quindi io vi do appuntamento al prossimo Lo Sip 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 Grazie.